Un del metodo a telaio, che è sufficientemente rappresentativo, occorre concentrare nei singoli nodi appunto le masse che afferiscono a quel nodo. Ecco, quindi queste deformazioni sono appunto le deformazioni modali che, dando un'idea poi anche di quanto le singole masse si muovano appunto nell'evento sismico. Per esempio, quando si esegue un'analisi pushover, diventa molto importante avere delle forze di piano che rappresentano quest'andamento. Ecco, vi faccio vedere questa rappresentazione ottenuta col software, magari togliamo la deformata modale per poterle vedere meglio. Queste singole forzettine, vedete che sono forze in analisi pushover che però risultano proporzionali allo spostamento modale. Ora, la normativa cosa ci dice per l'analisi pushover? Che bisogna applicare al nostro edificio un taglio crescente, è un taglio sismico, di natura sismica appunto, che viene fatto incrementare e studiare la risposta all'edificio. Si forma appunto un diagramma che riporta lo spostamento in funzione dell'azione crescente. Ecco, questa azione la si può ripartire in base al primo modo, però secondo la normativa, andando strettamente appunto secondo la normativa, come potrebbero fare certi software che non danno questa possibilità di intervenire, questa distribuzione secondo il primo modo avviene solo in verticale, cioè prendono la forza complessiva di quel piano e poi la ripartiscono magari uguale fra tutte le masse. Ecco, il controllo su questi aspetti è fondamentale, cioè bisogna stare attenti invece che la ripartizione in base al primo modo sia davvero su tutti gli spostamenti della struttura, non soltanto in elevazione ma anche nel piano. Ecco, vorrei concludere rapidamente per lasciare anche spazio a collega, l'interessante esempio ci farà vedere. Un altro caso è quello noto degli edifici in aggregato dove tutto il problema sta nell'isolare la singola cella e capire come va affrontata. Anche qui le norme quasi quasi mandano fuori strada a un certo punto perché ci dicono che si possono usare metodi semplificati, per esempio facendo il calcolo per interpiani, una opportunità che abbiamo dato anche nel nostro software, però l'esperienza ci dimostra che invece sono proprio casi in cui bisogna ragionare maggiormente questi, non vanno trattati come i casi semplificati, anche perché il metodo per interpiani fa un po' capo a quello che prima faceva il metodo POR, però purtroppo la complicazione oggi c'è comunque perché non ci si ferma a un confronto di resistenze, il che potrebbe essere possibile, cioè ci potrebbe confortare nell'utilizzo di un metodo tipo POR, estraendo la singola unità, perché il metodo POR ricorda aveva la caratteristica proprio di trattare piano per piano l'edificio, quindi non in un modello unico globale. Siccome invece la verifica che dobbiamo fare è una verifica su un oscillatore, quindi che si basa su uno spostamento, sullo spettro di risposta e su criteri, quindi energetici, che chiamano caso sia le forze di spostamenti, a quel punto si perde la semplicità dei metodi per interpiani, quindi tanto vale allora imparare bene i metodi complessivi che prendono un'analisi, la singola unità e saperla gestire per particolarizzarla al caso. Ecco, questo caso è un caso per esempio senza strutture comuni, cioè dove gli edifici sono semplicemente affiancati, per lo meno l'influenza delle masse sismiche dell'uno sull'altro va considerata. Come si fa? Ecco, queste masse non devono essere carichi, ma devono essere delle masse nodali che rappresentano l'interferenza che l'edificio adiacente ha col sisma e che da punto di vista statico invece non danno nessuna interferenza. Diverso è il caso invece dell'aggregato dove ci sono delle strutture comuni, perché in quel caso lì se si estrae la singola unità si considereranno comunque i carichi di competenza delle singole parti che insistono ovviamente su murature condivise, quindi spesso vengono anche presi delle porzioni di muri, diciamo così, degli edifici adiacenti per chiamare in causa anche in parte la rigidezza offerta dalle altre unità. Quindi questo per farvi capire che la modellazione degli edifici in muratura è tutt'altro che semplice, parte bene soltanto se si analizza bene il problema e si prende la direzione giusta. Vi sono infine alcune osservazioni che volevano anche far capire alcuni punti aperti, diciamo qui avevo fatto appunto alcune note sull'importanza dei cinematismi, ma ne ho già parlato. La questione degli impalcati rigidi e flessibili che è fondamentale, alcuni software danno anche la possibilità di dare delle parziali rigidità di impalcato, può essere opportuno anche questo, anche se va detto che comunque è molto difficile per capire qual è la rigidità di un'impalcata azione orizzontale. Generalmente nei casi dubbi lavorare fra i due estremi è la cosa più cautelativa, perché ci permette di avere appunto un completo range di comportamento e scegliere eventualmente la situazione più sfavorevole. Gli impalcati flessibili per intendersi sono quelli che non hanno solette rigide, che non hanno collegamenti tali da pensare e le pareti collaborino tutte insieme. Questo discorso del punto di controllo è importante per la questione anche delle varie irregolarità. Ci sono anche delle ricerche in atto che stiamo conducendo anche con l'ingegner Comodini che vi parlerà fra poco e che fanno capo a ricerche portate avanti dal professor Parducci negli anni passati su criteri energetici che rendano oggettivo il punto di controllo. Cioè anziché sceglierlo, anche se la normativa ne indica uno e il centro di massa, però come vi ho detto prima anche quello può mandare fuori strada in certe situazioni. Si può arrivare a qualcosa di meglio proprio riuscendo a gestire in maniera solo energetica questa cosa. Comunque a chi è interessato magari forniremo qualche approfondimento. La questione delle forze modali, l'ho già detto, è comunque descrivere adeguatamente il modello strutturale. Ci sono molte questioni aperte relative alle fasce, drift di piano e così via. Diciamo però che senza scoraggiarsi siamo comunque in un ambito operativo che rende possibile delle analisi anche attendibili purché siano fatte assolutamente con la piena padronanza dello strumento e la conoscenza ovviamente dei presupposti normativi. Chi fa software ovviamente non dovrà fornire solo un prodotto ma dovrà fornire un supporto anche all'utilizzo perché non è pensabile che tutti i professionisti siano in grado di avere una completa autonomia operativa proprio anche per la difficoltà ovviamente poi di mantenersi aggiornati su tutti gli aspetti delle strutture che mettendosi dal lato proprio del professionista è tutt'altro che semplice. Comunque lavorando in questo senso a nostro avviso si può ottenere anche dei buoni risultati. Risultati che ora relativamente all'edificio dell'Aquila l'ingegnere Comodini ci rappresenterà. Voglio dire una cosa che la questione degli aggregati all'Aquila sono dei seri problemi ai professionisti perché le richieste che fa Ray Lewis sapete come funziona l'indennizzo che viene dato per esempio ci sta un controllo di tipo tecnico sui progetti che fa Ray Lewis e poi un controllo di tipo economico che fa un'altra società che si chiama Cineas. I professionisti stanno avendo gravi problemi proprio dal controllo che fa Ray Lewis per cui la questione degli aggregati sta praticamente bloccando la ricostruzione del centro storico uno dei motivi per cui ancora il centro storico dell'Aquila non sono partiti è proprio questo qua è anche la modellazione molti progettisti proprio perché diciamo ci manca anche la cultura insomma non si sono adeguati e poi ci sono anche degli appigli normativi forvianti purtroppo se non sono ben digeriti e ben capiti possono anche mandare fuori strada questa semplificazione che c'è relativa agli edifici in aggregato a nostro avviso porta quasi più danni che averli invece inquadrati come un caso anzi più complesso che con le opportune perché l'idea è giusta bisogna intervenire non per singolo edificio perché quando siamo negli edifici a schiera e l'Aquila è tutto un edificio a schiera bisogna individuare l'isolato dove finisce la struttura e intervenire su tutta la struttura ovviamente va tolta anche l'idea che purtroppo alcuni hanno seguito anche di pensare che modellando in un'unica struttura un grosso complesso si raggiunga una verità maggiore perché in realtà poi le unità tendono a frazionarsi con l'evento sismico proprio perché la muratura ha questo fatto di cambiare la geometria resistente quando arrivi il sisma del resto basta che ne crolli o c'è da una parte e quindi magari quella che era una continuità ipotizzata va meno quindi ci vuole un equilibrio progettuale davvero delicato però ci sono state anche delle linee guida in questo senso prodotte proprio anche da Ray Lewis sugli aggregati in senso positivo ecco diciamo che a maggior ragione proprio ci vuole attenzione nell'utilizzo degli strumenti di calcolo diciamo che se l'Umbria ha fatto da da riferimento si parte dall'Umbria per la ricostruzione dell'Aquila dall'Aquila sta uscendo tutta un'altra problematica purtroppo l'Aquila soffre di questo anche avvento a un'evoluzione però cioè il fatto che la nuova normativa è entrata contemporaneamente a dover affrontare la ricostruzione e quindi ha colto purtroppo molti professionisti impreparati per tanti motivi insomma e poi come dicevo prima l'uso parallelo dei software fa credere di aver fatto un bel pacco compilato con le schede e tutto poi chiaramente anche Ray Lewis quando va magari a approfondire che cosa il progettista ha fatto ci può trovare una serie più che di sciocchezze diciamo di inadempienze a volte anche proprio non volute cioè trascuratezze ecco aspetti che non sono stati considerati che poi portano al blocco del progetto e a problemi conseguenti quindi la consapevolezza proprio va acquisita bene lascio la parola all'ingegner Comodini